Sono stati tre giorni in cui abbiamo lavorato con altri quattro musicisti stranieri colondesi e abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, di raffrontarci e di produrre soprattutto a tempo zero il che vuol dire che siamo stati in studio per determinate ore e ci sono stati dati degli assignments abbiamo dovuto fare musica per advertisement che è una cosa che trovo molto interessante perché ti viene dato un topic e in base a quello alla richiesta del cliente devi lavorare appunto in tempi stabiliti è stato molto bello lavorare con persone che non conoscevamo e poter capire come poter svolgere appunto le attività insieme perché ovviamente ognuno ha i propri tempi, ha i propri modi, anche solo il fatto che magari qualcuno utilizzi determinati software noi ne utilizziamo altri e magari qualcuno suona qualcosa, qualcuno suona qualcos'altro, qualcuno scrive musica, qualcuno scrive parole è stato bello soprattutto per questo Big Up, Italia Music Export, grazie per la possibilità e alla prossima Grazie per la visione